Dove è menzionata la costruzione di un tunnel sotterraneo, il tunnel dell'amicizia, che collega la moschea istitual alla cattedrale di Santa Maria dell'Assunzione. Si tratta di un segno eloquente che permette a questi due grandi luoghi di culto di essere non soltanto uno di fronte all'altro, ma anche uno collegato all'altro. Questo passaggio, infatti, permette un incontro, permette un dialogo, una reale possibilità di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, la mistica di mescolarsi, di incontrarci, la mistica di partecipare a questa marea un po' caottica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo peregrinaggio.